Negli ultimi anni vi ho abbondantemente raccontato del salto in avanti che ha fatto l'antropologia, lo studio della storia umana grazie al DNA antico, alla sua estrazione e poi all'analisi. Il video più visto su questo canale, che racconta la storia genetica degli abitanti d'Italia, parte proprio da lì, ma così come tantissimi altri video, quelli che riguardano i Neandertal, i Denisova, i vari eventi di ibridazione che ci sono stati, trovate tutto sul canale, però appunto partiamo sempre da lì. E tutto questo è stato possibile appunto negli ultimi 15 anni grazie a una rivoluzione tecnologica, quella che ha permesso di estrarre DNA che prima non si riusciva ad estrarre, che era lì, ma non si riusciva perché era veramente molto difficile. Stiamo parlando proprio dell'apertura di una nuova branca di studi praticamente, ed è dovuta soprattutto a Svantepavo, che per questo l'anno scorso ha vinto il Nobel. Lo studio del DNA antico si basa su una constatazione. Fortunatamente il DNA è una molecola abbastanza stabile che può conservarsi all'interno di alcune ossa, in realtà forse anche in vari ambienti, soprattutto se si tratta di ambienti congelati, ma questa è un'altra storia, per millenni, a volte decini di migliaia di anni, a volte centinaia di migliaia di anni, ma c'è un ma. Purtroppo il DNA non si conserva per tempi più lunghi, motivo per cui Jurassic Park sostanzialmente non è possibile, e in realtà anche in certe parti del mondo superare i 50.000 anni è particolarmente difficile. Parliamo delle zone per esempio tropicali o quelle particolarmente umide. Quindi ecco che in Siberia si può andare anche oltre i 100.000 anni, ma poi in Africa non si va oltre i 18.000, almeno per ora. E guardate, sta cosa mi fa stare malissimo. Io darei un rene per poter avere il DNA di Homo erectus, di cui abbiamo le ossa, ma non solo, pensate all'uomo di Flores in Indonesia, all'uomo di Luzon nelle Filippine, a Omona Lady, sta bestia che non ha assolutamente senso. Veramente farei di tutto se potessi per poter ottenere questo DNA, perché poi da lì si possono fare delle analisi, che possono darci ancora più informazioni su quello che sappiamo. Avere un po' di DNA di Neanderthal e un po' di Denisova è stato rivoluzionario per la nostra comprensione dell'evoluzione umana. Pensate per organismi ancora meno imparentati a noi. Senza il DNA rimangono soltanto le ossa, con tutti i limiti che le ossa possono avere. Le ossa sono molto più soggette ai processi selettivi, quindi diverse popolazioni possono avere differenze anche morfologiche evidenti. Sono molto più variabili tra individuo e individuo, e quindi ecco che magari io trovo un individuo patologico, e penso che in realtà sia l'emblema di una specie. Immaginate se è successo questa cosa con degli alieni che fra 100.000 anni arrivano, ci trovano magari estinti e trovano soltanto le ossa di un individuo molto specifico, molto particolare. Che cosa penserebbero? E per tutti questi motivi non è un caso, poi che di solito quando arrivano i dati genetici si tende ad avere qualche informazione in più. Tende una volta a modificare le conoscenze pergresse che si avevano soltanto sulla parte, diciamo, morfologica. Quindi capite dove sta il dispiacere? Molte cose importanti all'evoluzione umana sono avvenute ben oltre i 100.000, 200.000 anni fa, sono successe un milione, due milioni, tre milioni di anni fa, e in una nazione purtroppo non abbiamo strumenti genetici per vedere cosa è successo lì. Almeno non avevamo, perché forse adesso iniziamo ad avere qualcosa, ed è poi l'argomento di questo video. Prima però voglio dirvi che tra il 5 e l'8 ottobre, a Lucca si tiene un festival sulla sostenibilità ambientale, Pianeta Terra Festival. Per quattro giorni si parla di ecologia, di ambiente, ma anche di biologia in generale, e non solo. Ci saranno anche interventi molto più vari, interventi artistici, ma anche interventi di alcuni storici. Per esempio ci sarà Alessandro Barbero che parlerà di Francesco D'Assisi, ma poi ovviamente ci saranno anche interventi scientifici, ci sarà per esempio Giorgio Facchiano che parla del nostro rapporto con le foreste, Piero Genovesi che parlerà delle specie alieni invasive, poi si spazia, per esempio c'è Simone Pollo che parla dell'etica animale. Così come domenica ci sono anche io, in dibattito con i ragazzi di Fiders Free Future e con il filosofo Leonardo Cappo, e parliamo delle proteste per il clima. E poi un sacco di altri eventi, in tutto ce ne saranno più di 80, se siete interessati vi metto il link al programma in descrizione e nel primo commento, e dai che se venite ci vediamo a Lucca. Intorno a due milioni di anni fa, nell'est e nel sud dell'Africa, c'erano delle popolazioni, delle specie di ominini particolarmente strani, che facciamo un po' fatica a inquadrare. Erano ominini eretti come noi, ma avevano delle caratteristiche peculiari, assomigliavano un po' a dei gorilla, almeno dal punto di vista morfologico, sicuramente nel volto, forse anche per motivi legati alla dieta, ai comportamenti, che in un certo modo erano più simili a quelle di alcune scimmie piuttosto che di noi. Questo genere è chiamato Paranthropus e all'interno ci sono due o tre specie dannati paleoantropologi che non riescono mai a mettersi d'accordo. L'aspetto curioso, almeno per chi ha un'aspettativa lineare dell'evoluzione, è che queste specie convivevano in quel periodo con altre specie, come gli Australopitechi o i Homo erectus, entrambi due tipi di animali molto più simili a noi che alle altre scimmie. In altre parole, sicuramente non erano i nostri antenati, ma erano una linea parallela alla nostra, perché la nostra era quella del genere Homo, Homo erectus in quel momento. Le ritrovamenti del genere fanno partire un sacco di dibattiti. Come facciamo a dire che siano proprio un genere a parte e non semplicemente degli Australopitechi un po' più irrobustiti? Gli Australopitechi sono più imparentati a noi o ai Paranthropus? Perché in base alla risposta cambia molto, anche in base a dove dobbiamo andare a cercare dei vari fossili, no? Per ricostruire poi bene tutto il resto dell'albero. Oppure pensate se dovesse essere vera l'ipotesi per cui i Paranthropus derivano dagli Australopitechi e quindi ricostruendo la storia evolutiva ci accorgiamo che c'è un gruppo di ominini che prima erano più simili a noi, a degli uomini, e poi si sono progressivamente inscimmiottiti all'interno del loro ramo evolutivo. Quanto sarebbe particolare come cosa? Almeno nell'immaginario collettivo, poi non sarebbe poi così tanto strana come storia, ma magari di questo ve ne parlo quando parliamo di evoluzione umana antica. Devo fare dei video su questi argomenti. Dannazione, quanto sarebbe bello avere dei dati genetici su questi animali, quanto bello sarebbe avere il DNA, e va bene, avete capito dove sto arrivando. È successo qualcosa. Il 3 luglio è uscito un articolo in preprint che va a fare un tipo di analisi che non era mai stata fatta per ominini africani in tempi così profondi. Infatti gli acidi nucleici, il DNA e l'RNA, non sono le uniche molecole che portano in formazione genetica. Tecnicamente esiste un altro gruppo di molecole che ha dell'informazione, e sono le proteine. Probabilmente lo saprete, ma tutte le proteine sono riconducibili a una sequenza che deriva da una precedente sequenza di DNA. E quindi ecco che se abbiamo la stessa proteina di due organismi, ecco che possiamo fare degli allineamenti e vedere quali differenze ci sono, un po' come si fa con il DNA. Certo, è meno informazione, ma è sempre meglio di niente. E vale sempre la regola universale del piuttosto di niente, è meglio piuttosto, come si dice alle mie parti. Il lato positivo è che alcune proteine possono perdurare per milioni di anni, grazie al fatto che possono essere inglobate all'interno di una matrice formata da sali, come succede dentro alle ossa o dentro ai denti. Poi certo, ci sono dei problemi. Anche le proteine sono ben più soggette alla selezione naturale rispetto al DNA, ma comunque meno delle ossa. E quindi questa è una cosa ottima. Il motivo per cui il DNA rimane comunque di base la cosa migliore da avere è il fatto che da nazione ci sono delle ampie aree del DNA che mutano casualmente, non per motivi legati alla selezione naturale. E quelle aree lì in particolare sono particolarmente buone per fare delle analisi di confronto, di familiarità. Se volete approfondire proprio questo argomento vi consiglio un bel video, quello è un bel approfondimento che ho fatto anche con un professore universitario che stimo tantissimo e che si chiama tipo la più grande prova della tiro dell'evoluzione. Video consigliatissimo per capire come funziona la tiro dell'evoluzione oggi, nel 2023. Quello che hanno fatto i ricercatori di questo studio è stato prendere e analizzare le proteine dello smalto di quattro individui di Paranthropus vissuti due milioni di anni fa. In realtà questo tipo di analisi non è completamente nuova per quanto riguarda gli ominidi, sono stati fatti almeno altri due studi. Uno sui gigantopitechi e l'altro su Homo antecessor in Spagna. Però questa è la prima volta che questa cosa viene fatta in Africa. E quindi ecco che i ricercatori con l'olio di gomito, i pestelli, acidi vari e gli spettrometri di massa riescono ad estrarre dieci diverse proteine. Però solo sei sono presenti in tutti e quattro i campioni. E capite che è importante estrarre la stessa proteina da tutti i campioni perché poi se vogliono fare i confronti bisogna avere il doppione, no, di ognuno dei campioni. Fatto di per sé già interessante, i ricercatori trovano una proteina, la melogenina legata all'Ipsom, che può essere, visto che si trova sul cromosoma Ipsom, un ottimo modo per discriminare i sessi, per capire chi è maschio e chi è femmina. O meglio, per capire se uno è sicuramente maschio o probabilmente femmina. Perché? Perché se si trova la proteina, ecco che ci troviamo un individuo con il cromosoma Ipsom, e quindi un maschio. Mentre se non si trova la proteina, probabilmente è una femmina, oppure è un maschio la cui proteina si è progressivamente degradata. Ci tornano? E quindi ecco che dei quattro campioni, due vengono determinati come chiaramente maschi e due come probabilmente femmine. Curiosamente, il sessaggio corrisponde a quello che viene dai dati morfologici in solo di tre casi su quattro. L'individuo è SK835. In recenti analisi morfologiche si pensava fosse una femmina. Questo soprattutto dovuto alle sue dimensioni ristrette. Ecco, no. Dal punto di vista genetico è quasi sicuramente un maschio. Ed ecco qui che torniamo in uno di quei casi in cui probabilmente il dato genetico è un po' più informativo del dato morfologico. Dal confronto poi delle proteine condivise, ecco che i biologi fanno quello che provano sempre a fare, la loro cosa preferita, che non è cercare di conquistare il mondo, ma creare alberi filogenetici, alberi di parentela. E anche qui risulta qualcosa di particolarmente interessante. Tre individui sembrano particolarmente imparentati, mentre uno sembra abbastanza meno imparentato degli altri. Ed è proprio il nostro SK835. Pughiamo ogni dubbio. Non è che i tre erano parenti, semplicemente erano più imparentati, come io sono probabilmente più imparentato a un cinese che un abitante del Sudafrica, per capirci. Ecco, chiaramente un abitante di origini sudafricane. Cioè, nel senso, ci sono un sacco di sudafricani che... E un sacco di cinesi. Ma quindi si aprono un sacco di domande. Questo SK835 appartiene ad un'altra popolazione? O persino a una sottospecie? O persino a un'altra specie? Questo potrebbe spiegare forse perché è più piccolo degli altri, e quindi appunto se hai pensato che fosse una femmina? Qui ovviamente non credo abbia senso andare oltre con ulteriori speculazioni per un motivo molto semplice. Sono pur sempre quattro campioni. Andare a determinare se trattarsi di specie, popolazioni, sottospecie diverse, non ha molto senso. Però capite? Si sta aprendo una finestra interessante. Si può andare a ipotizzare che da qui in poi questa cosa si possa iniziare a fare. A pensare anche di creare delle strutture, capire com'era la struttura di popolazione di vari gruppi di organismi, di cui però non abbiamo il DNA. Siamo forse davanti a un grande inizio, ed è probabile che da quei prossimi anni la corsa non sarà più al DNA, ma soprattutto a le proteine, a cercare proteine antiche. E quindi magari manca anche poco ad avere delle risposte alle domande che ho fatto all'inizio del video, no? Immaginate di avere le proteine antiche di Homo erectus, degli Australopitechi e dei Paranthropus. Come si formerebbe un albero tra queste specie? Ecco, magari fra pochi anni potremo avere la risposta. Magari quest'anno stesso c'è già qualcuno che si sta lavorando in qualche articolo che verrà pubblicato nei prossimi mesi. No, no, giuro, non lo so, eh, non è che ho, non sono un insider. Sono leggermente insider, ma non in questo ambito. Cioè, nel senso, so di persone che pubblicheranno articoli su robe nei prossimi mesi, ma non su questo, perché ho tanti amici ricercatori, come si dice in questi casi. Per non parlare del fatto che forse anche questo è un inizio tecnologico. Questi sono i primi studi che vengono fatti con queste tecniche. Magari migliorando, ecco, che se ne possono ricavare anche di più di proteine da singolo campione, di migliore qualità, permettendo di fare analisi ancora più fini. Oh, dai che ci siamo, magari ci siamo, quindi ecco che magari nei prossimi anni riusciamo a estrarre e analizzare le proteine degli elderbergensis, di naledi, di homofluoresiensis. Io ci spero un sacco. Va bene, se succede, sono qui. Ok, ve lo racconto. Quindi iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina, e non solo. Sarete pronti voi, no? Avrete capito i concetti di questo argomento e quindi dai, che se esce un articolo, anzi segnalatemelo voi, scrivetemi su Instagram la mattina quando succede. Giacomo, hanno trovato il proteoma di Homo erectus. Guardate, quel giorno faccio festa. Do una festa. Vi invito tutti quanti. E quindi dai, spero di essere qui, spero di essere qui a raccontarvi. Con questo io vi saluto. Ciao a tutti quanti. Grazie.